Ciao a tutti torretti e benvenuti in questo decimo episodio della serie America Qua su Farming Simulator 2017 Oggi come vedete siamo ancora allo shop, ho portato il New Holland, la cippatrice e il pick up Allora prima cosa andiamo a vederci il pick up Ok Eccolo qua, lo vendiamo, 11.000 euro per il pick up, ok, mentre qui Non me lo vende, perché non me lo vuole vendere Ah ok, 24.000 euro, cavoli ci abbiamo a venderli, ora si guadagna un sacco di più dato che è nuovo Ok, 43.000 euro abbiamo fatto A sto punto Me lo compro? No, aspettate, mi serve un prestito Mi interetto di comprarmi alla fine il cippatore, questo qua Facciamo un prestito dai Allora, allora, allora Eh, due cavoliere presto, era qua L'ho appena passato, ok Aspettate, intanto per vedere due cavoliere Eccoli qua, dovremmo cambiare la trebbia il più presto possibile Eh sì, perché veramente ci costa un sacco mantenerla Ero tentato di vendere anche il case, però per ora teniamocelo dai Allora, chiediamo Eh, 160.000 euro di prestito Ok E ora ci possiamo permettere la nostra benedetta cippatrice 64.000 euro costa Eccola lì Vabbè, per fortuna che Non è da collegare al trattore C'è, per trasportarla si collega al trattore Però non è da collegare al trattore Spero che me la colleghi, esatto Se vedete è tutto bello chiaro E per il semplice fatto Che utilizzo la mod Real Day Night O Real Day Adesso non ricordo bene come si chiama E quindi Migliora un po' la La visuale Ok Ora sarà veramente un bel tragitto tornare a casa Non so se la utilizzeremo oggi Mi sa tanto di no Però volevo comprarla Così da voltar via Aspettate un attimo Per levarmi Tretto di comprarmi una barra più grande alla fine Però No Direi di tenerla nostra perché Questa qui Potrei comprare Oppure direttamente questa Però costa veramente troppo Ed i soldi ora non ne abbiamo affatto Quindi Vabbè Allora Devo dire che fa un sacco di fatica Il nostro attrattore Trasportarla Però No problem È cresciuta Sono cresciuti i semi di soia Alla fine Perché non ho più messo la molecola delle ruote che si sporcono La metterò prossimamente Se mi ricordo Dai Ok 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 Sapete una cosa Faccio un taglio e ci diamo in farm Ok Rieccoci qua in farm Alla fine Mi sono piazzato la cippatrice Non qui in farm Vabbè vi faccio vedere dopo Aspettate vi faccio vedere nella minimappa Vicino al campo Vedete Puntino dove c'è al campo 24 A destra Eccolo Posizionata lì Allora Tra l'altro qui sono cresciute le nuove colture Quindi andiamo a trebbiarle Metterò l'automatico penso Lo dico già E la nuova coltura Ovvero Non il rafano Bensì Il semi di soia Qui al campo a sinistra Stanno ancora crescendo Qui sono già cresciute E poi nell'altro campo Quello là di fronte Ho messo il chiesa a lavorare Ok Accentiamola Non so se fa la paglia Ma non credo Infatti non la fa E' una bella coltura Che ce la pagano Mille La tonnellata Mi pare Quindi Buono Buono Allora Facciamo un pochettino Poi la lasciamo andare per conto su Facciamo una passata Poi dopo gli mettiamo l'automatico E si arrangerà Purtroppo i soldi Vanno giù piano piano Però Che ci volete fare Allora Aspettate Fatemi un attimo vedere il condotto La barra è veramente molto piccola Ci starebbe molto bene Una di quelle più grandi Questa qui cos'è? Ci sta bene Una lama lunga al doppio Va più che bene Una barra ecco Ok Accendiamola E la mandiamo avanti Il triplo Proprio no Però un po' più del doppio Allora adesso saliamo a bordo Del Vabbè c'è qua questo Usiamo poi questo Ci andiamo a prendere Il nostro cippato Io direi di fare magari Il primo carico Venderlo E poi magazzinare tutto Venderlo in modo da fare Un po' qualche soldo Poi Ma anche no dai Uno però lo vendiamo Poi dopo gli altri Immagazziniamo tutti Allora Questi giorni veramente Non so che serie portarvi Dato che sono veramente Tutte poche seguite Non so il motivo Però Guardate un po' anche su altri canali E' veramente un periodo così Per tutti In cui le serie sono poco seguite Mi spiace molto Perché è anche interessante come cosa Però vabbè Non ci si può far nulla Ecco poi questo campo qua Sulla sinistra E' veramente il sole di Rimuovere tutto il viale Di abeti E magari ripiantarli più avanti Spostandoli Ok ci piazziamo qua Diminuiamo la velocità Ed iniziamo col taglio dalle piante Qui veramente si lavora di brutto Con la nostra steel Tra l'altro ho notato Su un modo ostro O su un altro sito Non ricordo Che è stata fatta una nuova steel Una nuova versione vecchia Ciao Facciamo un doppio taglio E poi togliamo il Il tronco Cavoli se vanno giù i soldi Ok Cadi, cadi, cadi Per ora direi di iniziare con una Perché veramente Sono quelle grosse queste E quindi Mi se ne fa di cippata Altro che Con le altre Vediamo un po' Appunto ce la togli Esatto Io lo taglio un po' In tanti pezzi Adesso vediamo se me li lascio a prendere Sì sì Me li lascio a prendere Tagliamolo metà così Ok La maggior parte appunto Mi ha detto di andare a far legna Quindi Con la nuova cippatrice grande Quindi eccovi qua È stato veramente un Un errore comprarci l'altra È troppo pesante L'altra cippatrice È troppo piccola Troppo troppo piccola Bene allora Ho disboscato Con la pianta grande Poi vedete Due di quelle più Tre di quelle più piccole Ora saliamo a bordo La nostra cippatrice La accendiamo La spostiamo Già che ci sono un po' Più avanti E la dispiego Con O invece Apriamo il nastro Ok Frena frena Potete spostarla avanti Molto comodo Il nastro direi di Ok così Va più che bene Aspettate che la spengo Ok Ed ora Ci mettiamo sotto Il nostro Ford Il nostro Sì Sto qua lo chiamiamo Ford Perché Presto che è un Ford Come trattore Ok No Aspettate che lo spengo Se no la benzina Se ne va Ok Aspettate Piccola screen Non voglio stargli A rimuovere Il cursore Però dai Ok Si riprende Allora Ho visto Anche su altri canali Che Si guadagna Si fa molto cippato Vi conviene Prima di tutto Riempirla Se riusciamo Si può veramente Bello lungo Quindi Vediamo Ah Cavoli Cavoli Praticamente Una pianta Intera Secondo me Gli aggiornamenti Hanno aumentato La capacità Che si può prendere Ok Aspettate Tagliamolo un attimo Qua Se no Magari Non lo prendo Ok Così Anche se So che spercherò Con la parte Ecco Esatto Ok Iniziamo con questi Pezzettini qua Che È sicuro Che questi Li prende Vediamo se riesco A lanciarlo da qua Fantastico In pratica Tenendo Con il tasto sinistro Del mouse Voi li prendete Con il destro Li lanciate Molto realistici Comunque Con questi qua Potrei anche Accenderla Già dai Accensione motore Accendiamo La cippatrice In teoria Lei scarica Ok Ed è partita Qui non li ha presi Basta metterli sul nastro Poi ve li prende Vedete Presso che Si fa Molti soldi Neanche In poco tempo Però Dovete aver prima Preparato il legname Oggetto troppo pesante Mannaggia te Tanto lei Sta andando Mi sta sprecando Carburante Si poteva anche Noleggiare però È meglio comprarsela Un mezzo così Cavoli Dai che ce la faccio No Bisogna stare attenti Perché È un po' un casino A volte Il cavoli è finito Eccolo qua Abbiamo caricato In teoria Dovremmo caricare Una pianta Più una piccola Però vediamo Un po' quanto Frutta Vediamo già un attimo Tu non vai Si che è andato Eh Con una pianta Di questo tipo Circa si fa Il 100% Del carretto Ok Rieccoci qua Allora 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 Adesso Mi manca Quest'ultimo tronco Sono andato un po' avanti Io Perché Altrimenti Era veramente Troppo Noioso Buttiamo giù Questo tronco Allora Come vedete è spenta Per il semplice fatto Che Altrimenti Moriamo Se gli entriamo Dentro Entriamo dentro La cippatrice Allora Non è per quel Motivo Bensì è per un altro Per il semplice fatto Che è piena Allora Noi prendiamo Il nostro In Holland E andiamo A svuotarcelo No Vediamo Un attimo Station No Si Dobbiamo andare Lassù Aspettate Che mi ruota La visuale Qui della copertura No dai Ah si No dai Lasciamo così Fatemi un attimo Vedere Se forse È un'offerta Guardate quanto Nuovi veicoli Ah vabbè Nuovi veicoli Abbiamo sempre comprato qualcosa Veicoli venduti Dai qualcosina Abbiamo anche venduto Aspettate un attimo Che volevo vedere Se è un'offerta Il cippato Quanto ce lo paga Eh no Non conviene andare A venderlo Per forza Lo riportiamo In farm Allora Perché veramente Perdiamo un sacco Di soldi Andarlo a vendere Ce lo paga 151 Eh se non mi sbaglio La scorsa volta Era sui 300 290 E veramente Non ne vale affatto La pena 21.000 litri Cosa ci dà 2.000 euro Eh Metti 3.000 euro A dire tanto Quindi no Ce lo portiamo a casa E lo scarichiamo lì Qui siamo a posto Allora Poi per caricarlo Eh Sarà un po' difficile Però penso ci compreremo Dei nastri O qualcosa del genere Perché altrimenti Non so proprio Io allora Questo video Durerà ancora un paio di minuti Adesso Non torniamo più La cippatrice Ma si faccia una strada lunga Andiamo a vedere Com'è il campo Com'è messo Cavoli L'ha fatto tutto Non produce Non produce C'è la I semi di sole Veramente Produco molto poco Poi questa zona qua Dovremo Queste piantine qua Non le taglieremo Quasi più Allora Dov'è? Ah ok Si è fermata lì Ottimo dai Comunque ha fatto Una bella trebbiatura Vediamo qua il retro Ci sono già Allora Tenete conto Anche quanto Scarichiamo Ottomila litri Di prima Circa Più Vediamo un po' Quanto facciamo Spero che la scarichi Sopra No cavoli Mannaggia Ce l'ha buttato Di fuori Vabbè Ci tiriamo un po' Ma La La pensavo Questa cosa L'immaginavo Proprio Ok Abbiamo scaricato Tutto Qui sta andando Avanti Qui Ok Terminato Cavoli eh Eccolo qua E vabbè Dopo i pezzettini Li rifarò io Comunque 6.000 litri Ha fatto Soltanto Ed io Avevo Vediamo un po' Avevo fertilizzato E tutto Questo campo Sono sicuro E ha messo Raffano E oleifero E tutto quanto Ok Ora cerchiamo La trebbia Togliamo L'automatico E La prendiamo Noi In comando Vabbè Dai Più o meno Vado a vendermeli Anche subito No Non è in offerta E cavoli sono Eccoli qua 1.34 Sta scendendo Il prezzo Quindi direi di Eh no Immagazziniamole Appena aumenta Il prezzo Li vendo subito Direi che è anche Il prossimo Raccolto Di fare Semi di soia Si produce Poco Però Si Cioè La quantità Sono poche Però Il prezzo È tanto Anche se alla fine Non so se ci conviene Ok Lasciamo No vabbè Chiudiamo il condotto Riprendiamo In mano La nostra Case Che Andremo a vendere Perché Tra un po' Perché Però Non subito Dobbiamo fare un bel po' Di soldi Prima Direi che io Mi taglio un po' D'erba Anche Off camera Così da venderla Perché altrimenti Non riusciamo a fare Niente Praticamente Nulla Poi dovremo seminare I campi E ce n'è ancora Di lavoretti Da fare Prima di poterci Comprare una trebbia Decente Veramente Ce n'è Quindi mi sa tanto Che appena riesco No vabbè La barra Eh si Non dico che sia indispensabile Ma quasi Eh vediamo un po' Come si è messo In prestiti Sì possiamo Prendercela In prestito Sapete magari Cosa faccio Aspettate Doviamo vedere un attimo Anche questa barra Quanto era larga Ok È larga 4 metri 3 Quindi Eh si Ci compriamo Questa qui Della Della Massi Ferguson Così che ci va bene Già per l'altra trebbia In modo da Anche da Come si dice Da avercela già Però Far prima quei soldi lì Sarà Bello complicato Vabbè magari Quando saranno Fare Vendremo un po' Del raccolto Però per ora Direi di tenere Il raccolto E Nerdare un bel po' Con Con le trebbiature E Le falciature In modo da vendere l'erba Allora Tanto me la piazzo qua Ok la spengo Anche qui Non si fa nulla Per ora Andrò magari avanti Tagliarmi qualche pianta Ma non Non assicuro nulla Aspettate Se lo cippo Vediamo un po' In teoria Ho letto che è un serbatoio Di 5.000 litri Appena l'ho comprata Però Non vorrei che Cavoli 1.500 euro Dei salari Mannaggia Perché Loro vi scalano I soldi piano piano E poi alla fine Non so se Il prezzo È Infine Sì Penso che sia Alla fine Che vi dice Quanto Avete speso Mi sa che i prossimi Campi Me li trebbi da solo Perché tipo qua Me lo semino da solo Perché altrimenti Mi fa fuori Tutto il conto In banca Già siamo sotto E non è Che sia al massimo Quindi Sapete cosa Avevo quasi intenzione Fare Sto continuando A cambiare idee Su come Portare delle serie Tutto quanto Avevo quasi intenzione Ultima cosa Di portarvi Quasi soltanto Questa serie Per ora Magari come solo Unico Come unico video Del giorno Questa serie Adesso Devo ancora vedere E magari Alternarla Alternarla Tipo Ok Ho contato Il lavoro Per due giorni Mi porto questa serie Poi Un giorno Mi porto la serie Medinita E poi Continuo ancora Con 3-4 Episodio Di questa serie Di seguito Così Allora Scarichiamo Comunque Ho fatto La cazzata Con il cippato Eh Capita Dovremmo Vabbè Più avanti Ci compreremo Una 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 Pala Gomma Cioè Una Ben Eccolo qua E nulla Io ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Come al solito Vi ringrazio Per essere stati qui E nulla Noi ci vediamo Forse oggi pomeriggio Uscirà un video Qualche video Avevo detto Che ci sarebbe stato Ride o MotoGP Però mi sa che Avrete Questo video Qui alle 3 E poi dopo A seguire Uno degli altri due Come vedete Si cavoli qua È stato Veramente Un bel casino E nulla Io vi ringrazio Vi saluto Noi ci vediamo Più tardi domani Con un nuovo video Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti